...in un aeroporto dell'aviazione Magiara operante sul fronte russo. Il volo sulle zone della ritirata rossa. I bolshevichi hanno sistematicamente fatto saltare tutti i ponti, distrutte le stazioni ferroviarie, incendiati i magazzini di viveri. Tonnellate e tonnellate di cereali in fiamme. Civiltà rossa. In questa chiesa trasformata in prigione le truppe ungheresi trovarono i cadaveri carbonizzati di prigionieri politici.